Buongiorno, sono Domenico Gambino, vicepresidente delle vendite a Barix. Barix è un'azienda svizzera che da 15 anni è leader nelle soluzioni di audio su protocolli internet. Quindi trasportare audio analogico attraverso uno stream digitale su internet o reti locali. Quest'anno all'Ise, dove siamo presenti ormai da moltissimi anni, presentiamo in aggiunta tutte le soluzioni classiche che sono ben note di Barix. Una nuova soluzione per quanto riguarda la distribuzione di musica e di annunci commerciali per le soluzioni retail, centri commerciali, negozi, così come corporazioni, ad esempio banche. La soluzione consiste di un nuovo player della serie Xtremer, ben nota da Barix, più la soluzione innovativa consiste nell'avere un portale web ospitato sul cloud, dal quale è possibile configurare in maniera completa ed esaustiva i dispositivi che si trovano nei diversi locali, siti dei negozi. Il portale permette quindi di configurare il dispositivo, di fare dei firmware update, così come di fare il deployment di tutti i contenuti audio, quindi musicali e di annunci commerciali, comodamente da un unico portale centrale a cui diamo l'accesso ai provider, ai system integrator che offrono la soluzione ai loro clienti che sono appunto i diversi retail chain e aziende.